L'offensiva al mercato del falso, lanciata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, non conosce limiti e, oltrepassando i confini del Lazio, arriva sino in Campania, fino a colpire i principali centri di smistamento di merce taroccata. Oltre 57.000 paia di calzature, con i loghi contraffatti Nike, Adidas e Hogan, tutte di ottima fattura, erano accuratamente stoccate in un capannone ubicato nella provincia di Caserta, scoperto dalle fiamme gialle del gruppo di Fiumicino. L'operazione prende le mosse di notte, sull'autostrada Milano-Napoli, quando una pattuglia del reparto aeroportuale nota un auto articolato con targa bulgara, scortato da due autovetture di staffetta, che viaggia verso sud. Il corteo, seguito a distanza dai finanzieri, esce al casello di Caserta Nord, e si dirige a Maddaloni, sino a giungere in un immenso capannone industriale, ove alcuni gregari dell'organizzazione iniziano lo scarico di numerosi colli di merce. Non appena giunti i rinforzi da Roma, i militari entrano in azione scoprendo che, sia nell'automezzo, sia nel deposito, sono contenute scarpe con i marchi delle più note griff contraffatte, tutte di ottima fattura e in grado di ingannare anche l'occhio più esperto. Dai primi accertamenti è emerso che il deposito era riconducibile a quattro persone, tre cittadini marocchini, e uno cinese, probabile anello intermedio di una catena distributiva, che parte dai laboratori gestiti dalla criminalità organizzata situati nell'Interland napoletano. I quattro sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria di Santa Maria Capuavetere, per i reati di ricettazione ed importazione e deposito, di capi contraffatti. Da un calcolo approssimativo, si stima che, se immessa sul mercato, tutta la merce sequestrata avrebbe fruttato all'organizzazione circa 1.400.000 euro. Grazie a tutti.